Diamo il benvenuto a Vadim! Ciao a tutti i vostri radioascoltatori, ciao a te, a tutti gli amici che ci seguono anche su YouTube con i nostri filmati, allo streaming, a Radio Bruno TV. Li abbiamo salutati tutti. Ciao Radio Bruno TV. Vadim, com'è stato allora a calcare il palco? Com'è affrontato quell'emozione? Ti vedo bello tranquillo, eh? Adesso è meglio di... ieri sera c'era la giusta tensione che serve per affrontare un palco come il palco dell'Arison e diciamo sono felice anche perché quando arrivi alla fine del brano vuol dire che sei arrivato alla fine del brano. E niente, mi dispiace non poter partecipare questa sera, non poter concorrere per la vittoria finale della sezione nuove proposte del Festival di Sanremo e comunque spero che il mio brano diventi una delle canzoni che verranno ricordate di questo Sanremo 2014. Che ricordiamo si chiama La Modernità, però sabato sera... Non poter dire televotate, televotate? No, teleascoltate perché andrete tutti voi giovani, videoascoltate e radioascoltate perché in realtà ci sarà una pillola quindi salirete di nuovo sul palco il sabato, prima volta, tra l'altro che tutti i giovani possono fare questa ospitata. Quindi non puoi ancora andare via da Sanremo, eh? No, 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 sono felice, avrei cantato pure stasera, pure domani. Volevi anche cantare qui, lo so. Pure qui, lo so, lo so. Faccio un pezzettino. Ma no, 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 no. Dopo, dopo, ci salutiamo con un pezzettino, che dici? Vadi, dopo questa esperienza sanremese, che cosa ti succederà? Uscirà un album, andrà in tour, hai già pensato a qualcosa? Guarda, io intanto, siccome ho sempre scritto, ho tante canzoni, molte già pronte per la far sentire ai radioascoltatori di Radio Bruno e di tutte le radio che vorranno divulgare la musica di Vadim, sperando che i radioascoltatori diventino miei fan. E intanto spero che il brano, la modernità abbia, faccia il suo percorso, entri nei cuori e a breve, se vorrete, potrete ascoltare le altre canzoni di Vadim. Allora, quello che mi è piaciuto di te nelle tue dichiarazioni è non riesco a descrivere le mie canzoni perché arrivano di getto, di botto e anche io le capisco una volta ascoltate dopo. Sì, perché è un po' tipo Freud. Cioè, nel senso, l'ispirazione è qualcosa di magico e meno male che ne arriva ogni tanto. Infatti scrivo soprattutto quando mi sento ispirato, se no suono, studio. E comunque, dopo che ho scritto il brano, la prova del nove avviene sempre il giorno dopo. ha mente lucida, orecchie pulite, si dice. Cioè, nel senso, perché se tu hai lavorato sul brano per tante ore, dopo un po' ti piace tutto, no? È come un brano. Io spero che il brano, ci sono tanti brani che dopo un po' ti piacciono a fare di sentirli. Invece, spero sempre, per me è come l'amore a prima vista. Quando un mio brano decido di portarlo fuori dalla mia stanza, è perché è come un grande amore a prima vista. Vadi, ma allora ci salutiamo con questo pezzettino che ci canti. Adesso possiamo fare anche la modernità. Allora, aspetta, chi è che ti dirigeva l'orchestra? Maestro Vessicchio. Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Qui negli studi di Radio Bruno, una pillolina, una pillolina. Vadim! Ma questa è la modernità. Noi a casa, voi a casa, un computer lavorerà. Ora qui, in questo meccanico mondo, non ho compreso qual è il posto che posso, che posso occupare. Forse non posso più nemmeno respirare. E poi, e poi c'è lei Che ha bisogno di più Grazie, grazie a Vadim! Poi ci sei anche tu Noi continuiamo a cantare, grazie. Ciao a tutti e grazie ancora. Ciao! Felicissimo di essere stato qui. Anche noi. Grazie. Noi cantiamo. Anche dietro al vetro. Ciao. Grazie a Mario. Ciao Mario. Diceva una canzone di Gabù e ci vediamo da Mario prima o poi. Prima o poi, dai. Grazie.